Ciao! Siamo Cagnoline Molto Cool! Amiamo le acconciature! Insieme vivremo mille avventure! BitBats! BitBats! Siamo le BitBats! Se stiamo insieme noi non ci fermiamo! Lutta, paura, inizia l'avventura! I love BitBats! Che disastro! Ma dov'è finito? Il mio cellulare è quasi scarico! Dov'è il caricabatterie? Dove lo avrà messo lo zio? Mamma mia! Che disastro! No, non è questo! Sì! L'ho trovato! Devo sistemare questo disastro! Il telefono sta per spegnersi! E in più abbiamo una BitBat da scoprire! Ho bisogno di aiuto! Ciao! Cosa fai? Ma zio Fabio, tu hai idea di cosa ci sia qua dentro? Niente! Quattro cavetti! Senti, ti va di aiutarmi a sistemare questa roba? Una delle nostre BitBats! È già da un po' che aspetta! L'ho vista, sì! E chi sarà? E che look le faremo? Ora lo scopriamo! Tra poco vedremo chi è! Lo indovini, zio? Credo che alla nostra BitBat piaccia la meditazione! Assolutamente sì! È Mila! La BitBat più spirituale! Che bel tatuaggio! È fantastico! Mila! Potremmo farle... La pettinatura che l'abbiamo fatto nell'episodio, ma quanti nodi? Beh, i nodi che ci sono anche qui! Dopo li sistemiamo, adesso sistemiamo la nostra cliente! Attentivi, Pets Friends! Per questo look avremmo bisogno di... Il pettine di Mila Questo accessorio che ci aiuterà a farle la treccia Un elastico per capelli Questi adesivi super carini Il suo diadema E il suo collare Iniziamo! Come già sapete, la prima cosa da fare è pettinarla bene! Questa volta andremo a farle una treccia laterale Per questo dobbiamo metterle i capelli dalla parte che preferiamo Adesso prendiamo tutti i capelli e li dividiamo in tre parti Bene! Ho capito! Ed ora, per iniziare a fare la treccia Prendiamo questo accessorio e lo agganciamo nella parte dove vogliamo iniziare la treccia E continuiamo agganciando la prima ciocca qui E facciamo lo stesso con le altre ciocche in questo modo E adesso, quando abbiamo finito la treccia Per far sì che non si sciolga, leghiamo con l'elastico alla fine Sta venendo bene, zio Fabio! E tra poco sarà ancora meglio Ora vedrai! Se vedi che all'inizio non sai usare bene l'accessorio Ricordati che puoi sempre chiedere aiuto ad un adulto Certo! La parte che viene adesso è divertentissima! Le mettiamo gli adesivi, vero? Esatto! Adesso prendiamo gli adesivi che ci piacciono di più E li mettiamo su tutta la treccia Perfetta! E adesso posso metterle il diadema? Certo! E con il suo collare Nila sarà pronta per la sua lezione E' veramente stupenda! Dai, facciamoci una foto per la rete Perché Nila deve andare alla sua lezione di yoga E io ho poca batteria! Andiamo in rete! Oh! Sono rimasta senza batteria! E Lady Gigi mi deve chiamare! Dai, aiutami con tutti quei cavi! Vediamo se esce il caricatore Forza, zio Fabio! Manca solamente il caricabatterie! Yeee! E termina qui il tutorial di oggi E ricordatevi di mettere un like a questo video E di iscrivervi al nostro canale! Questo è fondamentale! Ma certo! Alla prossima, V-Pets Friends! Che sarà molto presto! Lotta, paura, inizia l'avventura! I love it, V-Pets!